Stiamo dando risposte ai lavoratori dell'area di Sassari. C'è una disponibilità certa del Consorzio di Portoconte che dovrebbe inserire 25 lavoratori e poi piano piano anche tramite il Parco Geominerario anche gli altri lavoratori. Così ieri l'assessore Spano a conclusione del tavolo parternariale per il ricollocamento dei lavoratori dell'ex bacino Atifras, ma le rassicurazioni del rappresentante di giunta non sono bastate a fermare la lotta degli operai che da qualche giorno hanno occupato il tetto del Duomo di San Nicola Sassari. Ieri quando abbiamo chiesto al dottor Spano, Filippo Spano, l'assessore, abbiamo chiesto ma qua ho visto l'elenco e mancavano quelli di Sassari. Dico ma come mai il comune di Sassari ha fatto la manifestazione di interesse e gliel'avete bocciato oppure non l'ha fatta? Se non gli tornò dice non l'ha fatta. Pare che il cavilo burocratico nelle tre manifestazioni presentate dal comune di Sassari ogni qualvolta si dovesse presentare, doveva partecipare il comune di Sassari a questa manifestazione di interesse e doveva ripresentare gli stessi progetti, cosa che sicuramente per delle incomprensioni non è stato presentato questi progetti. Il cronoprogramma descritto nel verbale redatto a chiusura del tavolo di ieri seppur promettendo la ricollocazione di quasi tutti i lavoratori coinvolti nell'avvertenza per quelli dell'area di Sassari, Elguero e Porto Torres presentano incognite in più, anzi due. La prima è il parere del che il parco di Porto Conte, che si è reso disponibile all'assunzione di tutti i lavoratori attende dal Ministero dell'Ambiente, il quale dovrà dichiarare la fattibilità del progetto e la certificazione della capacità assunzionale. In mezzo la nomina del nuovo commissario del Geoparco. L'attuale, Tarcisio Agus, che ha presentato il progetto il 27 ottobre potrebbe non essere confermato aprendo così la strada alla possibilità di una discontinuità. Tutti interrogativi che non lasciano vere certezze, nonostante gli impegni assunti dalla Regione. Noi continuiamo il presidio qui sul Duomo di Sassari perché ancora non abbiamo la certezza e la sicurezza di essere reintegrati al lavoro. Per quanto ci riguarda i tempi si allungano ancora e quindi abbiamo deciso di continuare. Anche al Comune di Sassari i documenti cartacci saranno sostituiti dalla carta di identità elettronica. Dei primi di novembre sarà quindi possibile richiederla negli uffici comunali. Terminato il periodo di sperimentazione, il cartaccio andrà definitivamente in pensione come richiesto dal Ministero dell'Interno. Per ottenere la nuova carta di identità, le persone dovranno fissare un appuntamento nelle sedi dei punto città o attraverso il sito www.cartadidentità.interno.gov.it, effettuare il login e selezionare la sede, il giorno e la fascia oraria che si desidera. Nella data indicata il cittadino dovrà portare nell'ufficio scelto una fototessera o una foto su memoria USB e il precedente documento scaduto o deteriorato. Una volta che l'operatore avrà registrato i dati, la fotografia e le impronte digitali, le richieste di stampa del documento saranno inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La carta non sarà consegnata subito, ma verrà inviata direttamente dal Ministero dell'Interno all'indirizzo del cittadino o in un luogo da lui indicato, entro sei giorni lavorativi. Il documento sarà valido 10 anni per i maggiorenni, 5 anni per i minori dai 3 ai 18 e di 3 anni per quelli da 0 a 3 anni. Il costo potrà variare da un minimo di 22,21 euro se il precedente documento è scaduto o è stato rubato, fino ad un massimo di 27,37 euro se la precedente è stata smarrita o si è deteriorata. Nella somma sono comprese le spese di gestione sostenute dallo Stato, i diritti fissi e quelli di segreteria. Tutte le carte di identità cartacee già rilasciate sono valide fino alla data di scadenza riportata sul retto del documento. Il documento cartaceo non potrà più essere rilasciato se non per gravi e comprovati motivi salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi e gare pubbliche, che dovranno essere adeguatamente documentate dal richiedente e per cittadini iscritti all'AIRE, anagrafe degli italiani residenti all'estero, per i quali al momento non è possibile l'emissione della nuova carta di identità elettronica. Dal prossimo lunedì 16 ottobre i circa 12.000 imprenditori sardi del settore UV Caprino potranno presentare domanda per gli interventi di sostegno alle aziende del comparto per la campagna 2016-2017. Verranno erogati 13 euro per ogni capo presente in azienda al 30 giugno 2017, secondo quanto stabilito dalla legge approvata dal Consiglio regionale per un ammontare complessivo di 45 milioni di euro. Le domande vanno presentate in uno dei 32 sportelli unici territoriali dell'Agenzia Laore Sardegna. Come giunta e come assessorato, con il prezioso contributo delle agenzie agricole regionali e la leale collaborazione del Consiglio regionale, ha detto l'assessore dell'agricoltura Pierluigi Caria, abbiamo mantenuto l'impegno preso con pastori e associazioni di categoria nel venire incontro, a tempo di record, alle numerose criticità che hanno investito il mondo delle campagne a causa della siccità. In poco più di 60 giorni si sono trovati altri 30 milioni di euro da integrare ai 17 già stanziati dal Consiglio regionale per il comparto UV Caprino. Si sono riallocate tali risorse e compiuti tutti i passaggi burocratici e le comunicazioni previste dalla normativa fra gli assessorati, la Regione e il Governo nazionale. E infine sono stati trasferiti i fondi ad Argea, che si occuperà dei pagamenti alle imprese. Per maggiori informazioni si può consultare il sito di sardegnaagricoltura.it Cresce l'attesa per la prima della stagione lirica sassarese. Domani sera, venerdì alle 20.30, in replica domenica alle 16.30, sarà la Turandotto di Giacomo Puccini ad inaugurare al Teatro Comunale il calendario 2017 delle ente concerti Maria Lisa De Carolis. Un grande classico analizzato non solo musicalmente mercoledì mattina nella Sala Sassu del Conservatorio. È stato Paolo Gavazzeni, regista e direttore artistico di Sky Classica HD, a spiegare particolari e sfumature dell'opera puciniana a circa 200 spettatori. Un incontro voluto dalla nuova direzione artistica di Stefano Garau e una scommessa vinta anche per l'orario matuttino, che ha consentito di partecipare a tanti studenti in larga parte del liceo musicale, per un esempio di integrazione tra l'ente concerti e le istituzioni della città. Gli interventi sono stati moderati dalla musicologa Paola Cossu, presenti il regista e il direttore d'orchestra della Turandotto sassarese Filippo Tonon e Francesco Ivan Ciampa. Puccini, ha spiegato Paolo Gavazzeni, raccoglie il testimone del melodramma dopo la morte di Verdi, ma a differenza del predecessore racconta storie di gente comune, i sentimenti del popolo. Molto è stato detto inoltre del finale, rimasto incompiuto per la morte del compositore, ma anche per un'intrinseca impossibilità di tradurre il mutamento di Turandotte da principessa di ghiaccio ad Ardente d'Amore. L'allestimento sassarese è molto atteso per il successo che ha già riportato a Maribor, dal cui proviene, e al finalmonico di Verona. E poi gli interpreti, tra cui Rebecca Lockhart, Turandotte e Walter Fraccaro, Calaf, insieme al debutto nel ruolo di Liu, di Elisa Balbo. Il regista Filippo Tonon cura anche scene e luci, mentre i costumi sono di Cristina Acetti. Ritorna il Cavalier Marras, investigatore, ex poliziotto ed ex pugile, e che in realtà non è neanche cavaliere. Il personaggio, creato da Nello Rubattu, giornalista e scrittore sassarese, è nuovamente protagonista di un romanzo. Il Cavalier Marras è edito da Arcadia e sarà presentato domani, venerdì 13 ottobre, alle 18.30 a Sassari, alle messaggerie Sarde in Piazza Castello. Alessandro Marongiu dialogherà con l'autore. Le letture saranno curate da Paolo Pintore, Aldo Salis, Pierangelo Sanna e Carlo Valle. È un giallo? Diciamo che è un giallo, diciamo che è un giallo, perché comunque ha lo svolgimento da giallo e come tale bisogna tra l'altro in parte leggerlo, perché non si può di certo dire che sia un'altra cosa se non quella. Però è un giallo particolare, insomma, per certi vizi. Adesso non è che per dire del bene per le cose che ho fatto, però insomma è un giallo che intanto ha una scrittura molto particolare, perché io non faccio altro che utilizzare l'italiano dei nostri vicoli con tutte quante le sue sfaccettature. E quindi, insomma, già di per sé questo è, diciamo così, un modo diverso per scrivere un giallo. E poi la cosa fondamentale, insomma, in qualche maniera sono i personaggi, insomma, che sono proprio personaggi che fanno parte, insomma, della fauna di questa città, compreso me, perché adesso non è che devo mettermi lì a fare lo studioso degli altri. Io sono ne più nemmeno che un abitante di questa città e quindi come tale ho molti problemi a ritenermi diverso, insomma. Dimenticare Stintino era la parola d'ordine dei rosso-blu della Torres, che tornavano tra le mura amiche del Vannisanna per l'andata di Coppa Italia, che li vedeva impegnati contro il Valle Doria. Un primo tempo che ha prodotto diverse occasioni da gol, vanificate dagli avanti di casa, che hanno sprecato anche un rigore battuto a Lococo, al quale ha detto no, Simone Riperi, ex di lusso, che difendeva i pali dei Doriani. La ripresa inizia con un lampo rosso-blu che passano in vantaggio con San Rizzo, che sfrutta un crosso di Lococo. Ci si aspettava continuità sulle allele entusiasmo, invece il Valle Doria in piena zona Cesarini ha riagguantato il pari con Serra, che ha mutulito il Vannisanna. Un minuto dopo, il gol partita di un figlio d'arte, Palmisano, che ha centrato il bersaglio su un'ottima intuizione ai Fideli. Vittoria in misura, che permette agli uomini e mister Cirinà di prendere fiducia in vista del big match, che vedrà la Torres impegnata al Vannisanna contro il Sorso. Serve riprendere a lavorare con impegno, poi alla fine il campo darà le sue risposte.